Per me il futuro è un piccolo grande sogno in cui le aziende ripensino un po' il sistema economico in cui operano, non pensando solo all'utile economico, al profitto, ma continuando a pensare all'utile economico, pensare anche al territorio e alle persone da cui l'azienda è circondata. Quindi possano dedicare la loro attività alla salvaguardia recupero per esempio dell'ambiente, alla salvaguardia dei propri dipendenti, dei propri clienti e del territorio in cui operano, in maniera tale che non solo diano una mano a quelli che vengono chiamati stakeholder, ma soprattutto possano dare un input nuovo di una creazione di valore, una creazione che possa riguardare loro e tutte le persone, il territorio, l'ambiente, tutto ciò che le circonda. E' un po' questo il messaggio che cerco di mandare col mio lavoro, di sensibilizzare le persone e questo è un po' lo scopo di essere qui oggi a questo Friuli Future Forum. Per me la password, la parola chiave che possiamo considerare per il futuro è sostenibilità.